Grazie ancora per questo invito, ci siamo visti con molti di voi solo qualche mese fa in occasione di una serata dedicata al futuro, al futuro degli artigiani, al futuro dell'Italia quindi sono molto contento di continuare questo ragionamento, ringrazio molto Pino perché ha in pratica già dimezzato il mio compito perché la prima parte del libro è tutta completamente dedicata a quello che lui ci ha raccontato, il rischio in questo momento di rimanere solo delle maschere è molto alto, dobbiamo recuperare quello che Martinelli era per Arlecchino, cioè dobbiamo avere molta più consapevolezza di quello che siamo, di quello che siamo stati e di quello che potremo essere in futuro, il rinascimento dipende solo da noi ancora una volta e quindi adesso nella seconda parte del libro e quindi anche in questa parte di dialogo e poi mi piacerebbe molto se avete delle domande di chiudere anche con così delle riflessioni incrociate. Cercare di capire dove andare e come farlo, allora la premessa è quella che un po' ci è stata raccontata, noi siamo un popolo paradossale, abbiamo una cultura che è normalmente molto apprezzata nel mondo ma nello stesso tempo anche molto considerata diciamo con superiorità, ma questa è anche la nostra natura, il nostro carattere che è il carattere di Arlecchino e cioè molto spesso e troppo spesso sviluppiamo una capacità che è quella della furbizia, come ci è stato raccontato molto bene, che però non diventa pensiero strategico e questo vale io credo anche per le imprese, per la vostra attività, per le industrie italiane ed è legato a questa sorta di bersaglio che avete visto qui di lato e che avete visto anche nei sottobicchieri e vi ringrazio per questo perché è stato ripreso il pensiero, il filo conduttore del libro e cioè gli italiani sono molto bravi in questo momento in quelle attività che nel mondo vengono particolarmente apprezzate e su cui noi stessi molto spesso non abbiamo sufficiente consapevolezza. Allora quando la furbizia, che è comunque una forma di intelligenza, non riesce a misurarsi con un pensiero strategico che vuol dire con il lungo termine e con il mondo, quindi con l'universalità, rischia di rimanere davvero soltanto furbizia nel senso del folclore, quindi di rimanere una maschera, di rimanere una maschera dell'arte. In realtà invece oggi e solo oggi esiste la possibilità di trasformare questa furbizia in pensiero strategico, nel libro, nella seconda parte del libro e anche in una rubrica radiofonica che al libro poi è ispirata, che va in onda tra l'altro il sabato, quindi domani chi è curioso potrà ascoltarlo alle 5 e meno un quarto all'interno di una trasmissione molto interessante che chiama Essere o avere ed è una trasmissione dedicata ai consumi e c'è una rubrica fissa che si chiama proprio Italian Factor. Allora la cosa importante di questo libro è il sottotitolo, come moltiplicare il valore di un paese, ma questo significa anche come moltiplicare ad esempio il valore della vostra attività, di quello che ad esempio le artigiani hanno sempre saputo incarnare nel nostro paese e nel mondo, cioè il saper fare, l'eccellenza, la capacità di perfezionare quello che si fa, perché? Perché il pensiero artigianale non ha come in un certo marketing l'obiettivo di accontentare il cliente, ma ha l'obiettivo di fare qualcosa sempre meglio, questo elemento di perfezionamento continuo. Il problema qual è? Che se però questa capacità di saper fare e di migliorare le cose non arriva, non viene raccontato al cliente perché magari l'artigiano rimane chiuso nella propria bottega, impegnato in quello che sta facendo, in questo tentativo di fare le cose meglio di chiunque altro, purtroppo rimane una sapienza non utilizzata. Questo credo che sia un elemento chiave per moltiplicare il valore di quello che ad esempio voi fate e di quello che in generale l'Italia è in grado di fare. Noi da questo punto di vista incarniamo un paradosso, cioè abbiamo le qualità che tutto il mondo cerca, a cui tutto il mondo ambisce, ma non siamo molto spesso in grado né di raccontarla, né di trasferirla, né di venderla, ma soprattutto neanche di proporla in altre culture. C'è un problema che è un problema evidentemente culturale, che è un problema di confronto con le culture che sono diverse dalla nostra e questo in realtà ha avuto, almeno per l'Italia, un periodo d'oro che è stato alla fine un periodo anche di grande sofferenza in cui gli italiani sono dovuti emigrare e hanno guarda caso portato i semi della loro sapienza di questo saper fare nel mondo, negli Stati Uniti, in Sud America, in Australia, lo sappiamo bene. E quello è stato inconsapevolmente un seme importante per le qualità italiane, perché quando poi noi andiamo in quei paesi veniamo apprezzati anche perché veniamo riconosciuti come quelli che la pasta la sanno fare meglio di chiunque altro, quelli che si vestono meglio di chiunque altro. E attenzione, questo non è il lusso dei pochi ricchi, ma è il gusto dei tanti e in questo io credo che ci sia un aggancio forte anche con la manifestazione di oggi, con l'idea del libero accesso, con l'idea del design for all, del design per tutti, perché in Italia pensare a qualcosa per tutti non è mai stato privativo di qualità, questo dobbiamo in qualche modo capirlo bene. In Francia far qualcosa di eccellente significa per definizione fare qualcosa di molto alto, in Francia tutto è molto alto, haute couture, haute cuisine, l'alta cucina, l'alta gastronomia, l'alta cucina, è l'elemento chiave che arriva dalla guarda caso corte di Luigi XIV. Loro sono ancora legati a questa visione per pochi, per i pochi felici. In Italia non è così, in Italia non solo il pensiero artigianale, ma la cultura del nostro paese e tutte le culture regionali partono dal basso, partono dai territori, partono dalla capacità di produrre qualcosa che piace a tutti senza abbassare il livello medio della qualità. Questo è il miracolo italiano, cioè produrre il bello e il buono non per pochi ma per tanti e questo è un elemento che va assolutamente considerato con attenzione perché fino a quando però non riusciremo a moltiplicare questo valore e allora in quel bersaglio che voi vedete lì sulla sinistra vedete tre cerchi, il primo è il cerchio delle eccellenze, la capacità di reagire velocemente, la tempestività che magari certo ci deriva anche dalla furbizia di Arlecchino o di Pulcinella, ma è una cosa che noi abbiamo nel nostro DNA, noi siamo veloci a reagire, abbiamo l'intuizione, siamo poco razionali, è vero che magari non siamo così lineari, ma nel ragionare sui problemi molto spesso non è vero che ne creiamo semplicemente altri dieci, ma creiamo anche dieci soluzioni diverse, cosa che un tedesco non riuscirà mai a fare, quindi da questo tanto è vero che poi nei momenti di emergenza o nelle grandi sfide, ad esempio nel calcio noi tedeschi li battiamo sempre, allora da questo punto di vista bisogna però non accontentarsi di questo elemento di furbizia, di velocità, di tempestività e anche di eccellenza, dobbiamo mettere a regime questa nostra capacità e allora cosa vuol dire? Vuol dire imparare intanto a condividerlo, a trasferirlo alle altre generazioni, a chi magari è accanto a noi perché l'Italia è l'unico paese del mondo ad essere campanilista ed esterofilo, cioè è un paese ed è una cultura che tende o a concentrarsi su la propria realtà, non dico regionale, ma del campanile, per cui chiusa, rinserrata in questo concetto che noi siamo i migliori del vicino, ma nello stesso tempo è una cultura che vive di un grande problema ma che è quello poi di una soggezione nei confronti delle altre culture, siamo esterofili perché pensiamo che poi siano sempre gli altri ad essere più bravi, siano sempre gli altri ad avere una marcia in più, cosa che evidentemente non è vera perché è verissimo, non solo i medici italiani vengono molto apprezzati all'estero perché hanno una capacità appunto di reazione e di velocità, ma gli scienziati, ma chiunque lavori comunque nel mondo della cultura, dell'intelligenza, ma anche nei mestieri più vari, l'italiano all'estero dà il meglio di sé, questa cosa io che sono napoletano la posso tranquillamente trasferire anche nel rapporto ad esempio tra il napoletano e il milanese, io scherzando sempre dico che vivere a Milano per un napoletano è un vantaggio competitivo, nel senso che il milanese si lamenta del traffico e il napoletano evidentemente non può farlo perché arriva da una situazione ben peggiore ed è abituato ad affrontare situazioni ben peggiori. Allora io credo che da questo punto di vista la condivisione, quindi non il semplice facciamo sistema, perché poi questo è l'elemento su cui poi tutti anche giustamente si allineano, dovremmo fare sistema ma siamo troppo individualisti, siamo personalisti, ecco questo è assolutamente vero, ma dobbiamo anche capire perché oggi è utile fare sistema, perché questo è un momento in cui imparare da chi è diverso da te pur mantenendo la tua capacità e la tua intelligenza è assolutamente un passo che oggi noi dobbiamo compiere. Se rimaniamo fermi sui nostri territori, quando io sento parlare sono importanti le radici, io mi sento radicato, però scusate non siamo mica degli alberi, cioè non siamo mica fissi sui nostri territori, non dobbiamo aver paura di perdere la nostra identità se cominciamo invece a spostarci, se cominciamo ad affrontare altre condizioni, altre culture, e dobbiamo insegnare ai nostri figli a far questo, perché il nostro DNA è talmente forte da poter assolutamente sostenere il confronto con chi è diverso da noi e anzi io credo che è attraverso questa fertilizzazione che noi possiamo affrontare la grande sfida globale. Quindi le radici le abbiamo e continueremo ad averle, non abbiamo paura di perderle se cominciamo in qualche modo ad attraversare nuove situazioni, nuove condizioni e questa è una delle cose che nel libro viene segnalata. Un'altra cosa che viene segnalata è cerchiamo di tirar fuori la nostra capacità conviviale, cioè in Italia anche le grandi decisioni non vengono prese, ad esempio nelle grandi aziende, nei momenti in cui si fanno le grandi riunioni strategiche, le grandi decisioni vengono prese alla macchinetta del caffè, oppure a tavola, oppure a pranzo, oppure a cena. Allora questo elemento informale che è l'elemento chiave della nostra cultura, anche qui gli americani hanno targato, hanno scritto libri su questo e l'hanno chiamato lo human touch, cioè il tocco umano, la capacità di relazione interpersonale che noi abbiamo, loro ce l'hanno molto meno. Qual è il problema? Che però poi noi ci limitiamo alla tavola o alla macchinetta del caffè e tante volte non riusciamo poi a investire su un futuro in termini di pensiero strategico. Quindi noi dobbiamo continuare a essere quello che siamo, ma dobbiamo nello stesso tempo accettare l'idea che non basta, non basta più, è bastato per molto tempo, ma non basta più. Oggi il mondo globale richiede altri strumenti, una capacità di confronto, che è confronto universale, una capacità, e qui c'è un paradigma di cui vi ho parlato anche qualche mese fa, unique e universal, cioè la nostra unicità, ma pensiamo anche all'unicità regionale, all'unicità dei territori, non va difesa in termini di chiusura, la nostra unicità è talmente forte da poter diventare universale nel mondo. Pensate alla pizza, io che sono napoletano, se voi andate negli Stati Uniti, gli americani sono convinti che la pizza sia stata inventata da Pizza Hut, cioè sia stata inventata da qualcuno di loro che ha creato una grande catena di migliaia di pizzerie che, secondo loro, in qualche modo rappresenta la vera, come dire, identità della pizza. Ecco, questa capacità di moltiplicare il valore è quello che ci manca. Perché? Perché non siamo abituati a ragionare in termini di condivisione o in termini di moltiplicazione del valore. Abbiamo sempre paura di perdere l'anima, no? Di perdere la nostra capacità. Lo stesso riguarda il grande tema delle imitazioni, delle contraffazioni. Allora, partiamo da un assunto. Se noi siamo tanto imitati nel mondo, è semplicemente perché siamo considerati migliori, ok? Allora, portiamoci a casa intanto questo riconoscimento. Siamo considerati, in tante aree, in tante tipologie anche di prodotto, i migliori del mondo. Quindi è inevitabile che i prodotti italiani vengano imitati. È evidente che dobbiamo nello stesso tempo difenderli e quindi le battaglie contro le imitazioni, le contraffazioni. È chiaro che sono sacre e giuste, però non dobbiamo continuare a pensare che questo ci priverà della nostra straordinaria forza di inventare ogni giorno qualcosa di nuovo. Cioè, la capacità di moltiplicazione del talento è qualcosa su cui possiamo tranquillamente continuare a ragionare. Ed è assolutamente ormai dimostrato, anche dalle grandi istituzioni, dalle università e dai centri ricerca che studiano questo, che l'Italia nel mondo è posizionata in un ambito, in un mercato che è il classico mercato medio-alto, oltre che magari con alcune punte di eccellenza e di lusso. Ferrari è il marchio che vale di più nel mondo, ha superato la Coca-Cola ed è una piccola azienda straordinaria, eccellente, di un piccolo paese italiano dove per decenni è stata sviluppata questa capacità tipicamente artigianale di perfezionare in modo inimitabile qualcosa che fa sognare milioni e miliardi di persone. Ma non c'è solo la Ferrari, c'è anche la Ferrero, c'è anche la Nutella, c'è anche Kinder, cioè ci sono anche prodotti che sono molto più diffusi, molto più di massa, che però non perdono la qualità per questo motivo. Quindi, da questo punto di vista, ci sono le dimostrazioni evidenti che probabilmente ciascuno di voi in casa, in sala e ciascuno di noi può lavorare sulle proprie specificità, sui propri talenti, però abbandonando questa idea che comunque prima o poi qualcuno arriverà e ci priverà del nostro straordinario modello di vita o della nostra capacità competitiva nel mondo. Questo, davvero, dipende solo da noi, davvero dobbiamo accendere tante candele invece di continuare a lamentarci del buio. È chiaro, il buio c'è, esiste, i problemi esistono. Terzo tema con cui vorrei chiudere e poi magari se qualcuno di voi ha qualche riflessione o qualche domanda, molto volentieri, vi risponderò. Ma il terzo grande tema, e già me lo sento proporre da qualcuno di voi, ma c'è però noi facciamo quello che possiamo, ma c'è sempre qualcuno che ci mette il bassone tra le ruote. C'è un mondo istituzionale che non è all'altezza. Allora, io però dico, e questo nel libro è proprio chiarito, sarò anche impopolare, ma guardate che la politica e il mondo delle istituzioni è lo specchio di quello che noi siamo. Siamo noi che li abbiamo in qualche modo votati, siamo noi che abbiamo permesso che questo avvenisse e tante volte, se guardiamo dentro noi stessi, ci accorgiamo che i nostri piccoli vizi non sono poi così diversi. Cambia la scala, per carità, loro le cose magari che noi facciamo in piccolo le fanno molto più in grande, però fino a quando non attiviamo una riflessione seria e una riflessione su quello che noi siamo in modo direi quasi spontaneo e quindi è questo anche tentativo di aggirare le regole, questo tentativo di non affrontare di petto i grandi problemi, ma nel cercare con furbizia, che ripeto è una forma di intelligenza, di aggirare l'ostacolo, noi non ce la faremo perché fino a oggi è stato possibile, da domani non lo sarà più, perché l'elemento della trasparenza è l'elemento, perché le nuove tecnologie che ci piaccia o meno portano ad una maggiore trasparenza e allora se ci sono aziende che non accettano l'idea di confrontarsi sui social network, di utilizzare nuove tecnologie perché le considerano come il diavolo per tornare al diavolo, non hanno un grande futuro perché quelle sono evidentemente le dimensioni su cui noi dovremmo andare a confrontarci e io purtroppo vi ripeto venendo da Napoli e venendo dal sud so bene, conosco bene i motivi per cui tante aziende magari anche piccole non accettano di informatizzarsi perché sanno bene che sarebbe molto più difficile aggirare, così come oggi ancora si fa in molti casi le regole ad esempio fiscali e così via. Allora quello che nel libro viene in qualche modo proposto è da un lato c'è un mondo fuori che ha fame di Italia, ha fame di prodotti italiani, abbiamo ancora oggi tutte le possibilità per poter vincere questa battaglia ma nello stesso tempo ci sono nuove dimensioni che non sono solo le regole nel senso classico ma sono delle nuove sensibilità su cui noi possiamo assolutamente essere riconosciuti e allora in quel bersaglio che voi vedete noi siamo il paradosso qual è? Siamo molto bravi nei due cerchi che vedete in rosso, siamo bravi nell'eccellenza, siamo bravi anche nella felicità perché siamo bravi nelle famose tre A, alimentazione, arredamento, abbigliamento che sono poi i settori attraverso cui le persone vivono che quindi incarnano la felicità personale. Quindi siamo bravi in quelle aree, siamo bravi nelle competenze, abbiamo l'ingegno, abbiamo la tecnica, abbiamo questo tocco artistico, quindi abbiamo quanto è più difficile avere ma quello che ci manca completamente è il cerchio intermedio, quello che voi vedete in verde, ci manca la capacità di comunicare, ci manca l'organizzazione, ci manca molto spesso la capacità di vendere anche solo semplicemente e cioè di pensare che il progetto che tu hai non è solo il prodotto il migliore possibile su cui siamo imbattibili ma quel prodotto deve avere un progetto di vendita, di distribuzione, di comunicazione, deve sapersi raccontare, deve sapere andare online, anche sul web, deve in qualche modo affrontare il cambiamento del mondo fuori ed è lì noi che siamo più deboli ed in fondo è la cosa più facile da fare. Vi assicuro che per un americano o per un tedesco essere veloce, tempestivo e intuitivo come noi è quasi impossibile perché quelle sono veramente caratteristiche che arrivano dal DNA di un popolo, di una cultura, abbiamo avuto il rinascimento, abbiamo avuto veramente secoli straordinari da questo punto di vista e ce l'abbiamo nella pelle, i nostri ragazzi basta che gli dai tanto così immediatamente, credo che i progetti di oggi l'abbiano dimostrato, gli dai una grande sfida anche difficile con dei vincoli molto pesanti e loro ti inventano cose straordinarie. Quindi non sono affatto preoccupato, quello che nel libro viene chiarito, noi non dobbiamo essere preoccupati della sostanza perché la sostanza ce l'abbiamo, noi dobbiamo capire che non basta più quello, non basta più l'ingegno personale, lo spontaneismo, bisogna sapersi organizzare, bisogna saper moltiplicare il nostro valore e tante volte per fare questo non si può essere da soli, non si può essere da soli con la propria famiglia, col proprio gruppo di amici, bisogna sapersi coalizzare e da questo punto di vista competere ma anche in qualche modo condividere e allora le aziende, quelle piccole, quelle medie, nei vari territori, lo stanno in parte facendo, devono imparare a mettersi in rete, devono imparare a condividere, pur continuando a fare ognuno per carità il proprio business, io non sono dell'idea che il problema dell'Italia sia il nanismo, questa è una cosa che per vent'anni ci siamo sentiti dire dalle grandi anche scuole di management, il problema dell'azienda italiana è la dimensione, io non credo che sia vero oggi, il vero tema che discrimina non è essere piccoli o grandi ma essere aperti o chiusi, se sei piccolo e sei aperto, sei collegato, sei connesso, hai una capacità di confronto, crei magari delle partnership con interlocutori all'estero o in altre realtà, in altre regioni, ce la puoi tranquillamente fare, c'è una letteratura ormai ricca di esempi, di casi, di aziende anche molto piccole che hanno avuto un'idea talmente forte, talmente incisiva da poter affrontare il mercato globale, il vero tema è apertura mentale e quindi una delle parole che vediamo in quel cerchio intermedio è la formazione, formazione vuol dire accettare l'idea che troppo spesso non siamo sufficientemente attrezzati, in termini culturali non conosciamo la nostra storia, non sappiamo dove stiamo mettendo i piedi, non conosciamo la storia appunto di Arlecchino o della piazza che tutti i giorni attraversiamo, ne assorbiamo la bellezza per fortuna, quindi abbiamo gusto, ma è un gusto spontaneo, su quello bisogna io credo lavorare seriamente, bisogna affrontare in modo serio il tema della formazione e anche per questo vi ringrazio dell'invito perché io spero che queste pillole anche minime possano servire a tutti noi per crescere dal punto di vista della consapevolezza, ma è davvero non così difficile, vi assicuro, abbiamo, perché il sottotitolo del libro è come moltiplicare il valore di un paese, perché noi il valore ce l'abbiamo già, non dobbiamo inventarci nulla, non dobbiamo produrre qualcosa in più, noi abbiamo già tutte le qualità, le competenze e abbiamo il valore, però non sappiamo moltiplicarlo e allora da questo punto di vista credo che sia molto importante aprire un grande laboratorio collettivo, cosa che sta avvenendo in parte con i Fab Lab, con una serie di progetti che sono certo legati anche alle nuove tecnologie, ma sono legati anche al saper fare manuale, c'è tutto un grande movimento che si sta muovendo, voi lo saprete, nella direzione di un futuro artigiano, come dice Stefano Miceli nel suo libro molto bello, e che in qualche modo in questo momento può dare la spinta ad un paese che è stanco, un paese che è comunque oggettivamente anziano, perché noi che lavoriamo in Brasile, in Brasile l'età media è 28 anni, in Italia l'età media è 45 anni, allora non è che possiamo improvvisamente ringiovanire perché questo ci piace, far finta che siano giovani, no, si tratta di creare una relazione virtuosa tra la sapienza dei maestri, e l'ho visto prima in apertura, e quindi non è l'anziano, è il maestro con la M maiuscola, che con la sua sapienza può insegnare e infondere alle giovani generazioni, ma la giovane generazione ha un ruolo fondamentale, che è quello di portare le persone più mature nel futuro, con le tecnologie, con la capacità di misurarsi col mondo, perché oggi questo è possibile a costo zero, non è più per i ricchi o per i benestanti, quindi c'è un progetto paese che non è quello degli Stati Uniti, non è quello della Francia, non è quello della Cina, è un Italian Way, è il modo italiano di moltiplicare il nostro valore, allora quel factor, e con questo chiudo, è proprio come l'X Factor dei talent show, è da lì che è venuta l'idea, che tra l'altro è l'idea di Barbara Santoro, che è coautrice del libro, ed è importante perché lei è una italo-canadese, lei ha vissuto per vent'anni a Vancouver, in Canada, e lei queste cose le ha capite, perché da italiana che viveva in Canada, ha capito che l'Italia e la cultura italiana ha un valore aggiunto che nel mondo viene apprezzato e considerato così come noi non siamo in grado di comprendere, quindi c'è un problema di consapevolezza forte, e se tu vivi fuori e poi torni in Italia lo capisci molto meglio, quindi da un lato andare nel mondo non è assolutamente un errore, è chiaro che tornare diventa un'esperienza felice, perché andando e tornando capisci il valore aggiunto che noi abbiamo, questo non basta, bisogna attivare questo elemento moltiplicatore, allora nei talent show l'X factor è il talento, è il talento quando si impara a cantare, si impara a ballare, il grande successo anche televisivo di queste trasmissioni è perché vedi che il concorrente migliora, migliora ogni settimana, ecco quindi questo elemento di perfezionamento e questo dare al factor una valenza che è di moltiplicazione del valore, non si smette mai di imparare, però lo zoccolo duro della qualità del talento e della felicità noi ce l'abbiamo, tanti altri non ce l'hanno e quindi abbiamo io credo il dovere di investire sul futuro da un lato trasferendolo ai nostri figli e alle altre generazioni e dall'altro davvero approfondendo i motivi per cui questo è avvenuto e quindi mi è molto piaciuta l'analogia con la storia, come dire, la commedia dell'arte e la storia di Arlecchino perché in quel caso dietro ad Arlecchino, dietro alla maschera c'era una sapienza e un'intelligenza che oggi noi rischiamo di perdere, quindi investire in cultura e informazione e nello stesso tempo non perdere mai il controllo delle mani, della manualità, del fare e del saper fare che sempre più diventa un elemento di rapporto stretto con la testa e con l'intelligenza, quindi tecnologia e saper fare manuale, tradizione e innovazione, smettiamola di pensare che questi mondi debbano essere l'un contro l'altro armati e la grande varietà dell'Italia e delle differenze regionali è un elemento che facilita e non impedisce questa relazione, quindi apriamo la nostra testa e anche se siamo molto piccoli lavoriamo in questa idea di un sistema aperto dove non perderemo la nostra identità, tranquilli non c'è bisogno di essere radicati come degli alberi perché noi il nostro DNA non ce lo leva nessuno.